no ma scusa ma sei stupida non vedi che piccola la scatola una bambola grazie papà e non dimenticare il suo accessorio speciale fiorello al coltello si sarà sempre vicino a lei ti voglio bene bambola ti ammazzo nel sole cosa? abbracciami ah ecco ti ammazzo nel sole la merda che voglio buttare che succede? qualcuno ha ucciso la mamma io non sono stato la bambola ovviamente no perché è una bambola e quindi sei stata tu brava complimenti e ora torna a dormire che domani chiamo la polizia mi toccherà anche farmi la colazione da sola che cosa bevi di solito la mattina? latte o caffè? il tè freddo oh perfetto il tè freddo la signorina brava lei non beve il latte come le persone normali